Aesthetic Med, via della regione 187 San Giovanni la Punta, Catania. Telefono 095 741 1342. Un vero spettacolo in piazza della regione a Daci Bonaccorsi per la selezione regionale di una ragazza per il cinema, concorso di bellezza che fa da trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo premiando il talento e la personalità. In passerella 35 ragazze della provincia etnea hanno sfilato per contendersi la fascia che porterà alla finale nazionale dell'8 settembre al Teatro Antico di Taormina. In passerella 35 ragazze della regione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Massaggi total body, relax con oli essenziali, decontratturanti, emolinfatici Foto epilazione permanente 36 euro Trattamento radiofrequenza anti-age con acido ialuronico viso e corpo per rimodellare i tessuti e stimolare i fibroblasti Trattamento macchie cutanee con microderma abrasione Extension ciglia Presso terapia per drenare Pedicure e manicure estetico curativo anche con semi permanente Aesthetic Med si avvale dei migliori prodotti, vagheggi, fitocosmetici Da Aesthetic Med Pedara ogni mese puoi trovare convenienti pacchetti estetici per ogni tua esigenza Aesthetic Med è a Pedara in piazza Don Diego 5 Telefono 095 7808741 o visita la pagina Facebook Aesthetic Med Pedara